in campo subito Marco Camisani Calzolari che voi tutti conoscete è un personaggio del mondo dei media ma è un grande esperto di temi della comunicazione e dell'educational sulle nuove modalità di comunicazione quindi Marco ti darei subito la parola e così andiamo verso la chiusura di questo primo panel di apertura a te Marco Ciao Raffaele, buongiorno a tutti saluto così per ricordarmi l'importanza di essere seri ma non seriosi siamo entrati in questa era in una nuova era in cui l'intelligenza artificiale è accessibile a tutti e ovviamente ci auguriamo che i nostri figli vivano in un futuro in cui l'intelligenza artificiale possa portare cambiamenti positivi ovunque però è evidente che ci sono anche dei rischi che non possiamo sottovalutare e dobbiamo affrontare in modo diretto anche perché oggi si conoscono questi rischi però inizio dei cambiamenti positivi di cui sicuramente si parlerà oggi e di cui peraltro a proposito della citazione del senatore Alessio Butti di cui stiamo discutendo con il comitato guida delle strategie dell'intelligenza artificiale peraltro presieduto dal professor Greco allora sono cambiamenti positivi che arrivano un po' dappertutto nell'industria con i sistemi predittivi nella società perché in generale fare insparmiare tempo prezioso alle attività quotidiane di tutti sappiamo bene nella sanità nella diagnosi perché ovviamente si possono pianificare trattare gestire dati dei pazienti fare diagnosi insomma migliorare l'efficienza in generale del settore medico nell'ambiente evidentemente a cui teniamo molto nell'energia per le nuove reti intelligenti si possono prevedere fonti di energia rinnovabili insomma e anche la sicurezza ovviamente delle centrali nucleari ma visto che siamo al Safer Internet Day 2024 soprattutto nel mondo della cyber security con algoritmi che imparano dei dati storici identificano partner di attività dannose certo è vero che come diceva Raffaele ci sono anche i contrattacchi che utilizzano l'intelligenza artificiale ma tuttavia si ha almeno uno strumento importante e visto che i bambini sono al centro dell'intervento dell'evento di oggi forse però dobbiamo fare anche delle riflessioni su le ripercussioni più importanti per esempio nell'istruzione perché l'intelligenza artificiale sta diventando da come dire essere un'idea a diventare un elemento essenziale in ogni aula cioè attualmente può servire per l'apprendimento personalizzato può servire per aiutare a dare i contenuti giusti in base ai punti di forza o di debolezza di ogni studente magari assicurando un supporto personalizzato e una cosa certa tuttavia è che i nostri figli vivranno in un mondo molto diverso da quello che viviamo oggi è tutto bello e fin qui come dire per citare il titolo di questo evento ci arriva anche un bambino ma forse c'è qualche problema perché perché tutto questo sta succedendo in modo molto veloce troppo veloce molto più veloce di noi e come ho già sentito dire prima ci deve essere sempre l'uomo al centro su questo anticipo credo di dirlo per la prima volta pubblicamente che sta uscendo il mio libro che si chiama Cyberumanesimo edito solo 24 ore ma non è questo il momento per lanciarlo tuttavia ci tenevo perché ho sentito parlare di umanesimo digitale ecco non dobbiamo però spaventarci dobbiamo agire e allora dovremmo per esempio per essere concreti chiederci e chiedere cosa c'è dentro la maggior parte dei motori alla base delle applicazioni di AI che usiamo tutti i giorni perché non è proprio noto e dobbiamo assicurarci che tutto porti ad accrescere il benessere collettivo soprattutto dei minori e per far sì che tutto questo non travolga i loro diritti fondamentali forse dobbiamo lavorare per porre le basi perché sia davvero un'opportunità per loro perché i problemi ci sono e sono tanti banalmente OpenAI ha ammesso di aver raccolto materiale coperto da copyright per creare CGBT e lo hanno fatto un po' tutti lo sappiamo la settimana scorsa il garante per la protezione dei dati personali giustamente ha notificato l'azienda ancora un'altra volta un atto di contestazione per aver violato ancora la normativa in materia di protezione dei dati personali e ricordo che quando si parla di dati personali si parla anche di quello dei minori la nostra vita intima è online probabilmente in qualche database rubato in giro per il dark web e ci sono aziende che addestrano i language models utilizzando quei dati sapete molti di voi lo ricordano un recente studio condotto dalla Stanford Internet Observatory ha rilevato delle scoperte terribili riguardo alla raccolta di immagini utilizzate per l'addestramento di notti modelli di intelligenza artificiale ad esempio hanno trovato una collezione che include migliaia di immagini rafficuranti abusi sui minori ma migliaia ecco il problema è quello il metodo di acquisizione dei dati web scraping vanno a tirare un po' su tutto e lì ci sono anche i nostri figli e questo porta ovviamente a gravi implicazioni però vedete noi siamo degli esperti noi siamo dei decision makers che in qualche modo hanno il potere ma dal punto di vista potere nel senso di fare qualcosa ma da parte dell'opinione pubblica paradossalmente c'è una scarsa opinione del concetto della privacy si pensa che sia una cosa di poco conto che riguarda solo indirizzi email numeri di telefono e poco più quando invece diritto privacy soprattutto ai tempi dell'intelligenza artificiale significa anche impedire che qualcuno veda in tempo reale dove si trovano i nostri figli questa è privacy evitare che diventino oggetto di addestramento di intelligenze artificiali varie eppure siccome manca consapevolezza appena si solleva il problema appena il garante blocca il trattamento ci perchiepiscono un po' tutti come ostacolatori dell'innovazione in generale il tema della protezione minori dati personali nel mondo purtroppo globalmente anche perché viviamo in un mondo complesso noi possiamo è anche globale possiamo regolamentare quello che volete ma poi dalla Corea del Nord decidono di fare quello che vogliono in italiano che viene ricevuto qua in Italia quindi ancora purtroppo è tutto insufficiente e dobbiamo rendercene conto per quanto il garante italiano sia un fiore all'occhiale nel nostro paese l'agenzia per la cyber security nazionale il dipartimento per cui collaboro per la tassolazione digitale soprattutto il telefono azzurro che lo fa da tantissimi anni e si è aggiornato molto non a caso siamo qua la polizia postale altre autorità che ci difendono però vogliamo davvero lasciare le nostre vite e quelle dei nostri figli nelle mani di queste scatole nere solo perché ci aiutano a scrivere meglio una lettera cioè vogliamo che la nostra vita la decida l'intelligenza artificiale ma perché sennò arriveremo a fare un po' come succede con i social la macchina non si accende la decida l'intelligenza artificiale la cucina non funziona l'intelligenza artificiale e poi a un certo punto quando non funziona qualcosa chiediamo come facciamo quando ci cancellano l'account o bloccano un commento e nessuno ci risponde però rimaniamo senza che le cose funzionino e allora forse una società basata sulla decisione degli algoritmi magari è inaccettabile no? perché chi è che vuole dai sottostare a decisioni prese da macchine senza possibilità di appello perché rischiamo di arrivare lì però amici colleghi autorità l'elefante nella stanza in questa in quella e dappertutto è gigante ed è questo cioè che noi gli stati i governi sono meno potenti delle grandi piattaforme basti pensare che chi li guida per farsi approvare e eleggere deve passare dalla promozione dei big sono le piattaforme a decidere cosa far vedere cosa no sono già più potenti di noi e quindi non come dire in generale sono pochi i politici che hanno voglia di mettersi contro chi può fargli vincere le prossime elezioni ovviamente citando le prossime statunitense e quindi pensate quanto è assurdo oggi che non esistano ancora sistemi adottati internazionalmente per verificare l'età di chi usa certi servizi che renda davvero effettivo il divieto d'accesso per i più piccoli a piattaforme che non sono disegnate per loro che i loro dati personali non siano ancora protetti e soprattutto non siano consapevoli di quanto i loro dati siano importanti e di quanto rinuncino ogni volta che cliccano su un giochino online Zuckerberg come sapete settimana scorsa ha chiesto scusa ai genitori per le sofferenze che ha procurato e per i danni che ha fatto insomma ha fatto indirettamente povero perché ci sono anche settori ben peggio di quello pensate che su YouTube tuttora ci sono migliaia di ragazzi che live su Twitch sollecitano i minori a comprare cripto per giocare anonimamente a casino online quindi voglio dire oggi dobbiamo davvero entrare nel dettaglio di questo perché altrimenti rischiamo di essere vittime ma pensate banalmente alla scuola sempre tornando ai ragazzi oggi tutti usano CAAGPT per fare i compiti ma senza alcun utilizzo strutturato sta succedendo qualcosa anche lì magari bisogna ripensare delle procedure definirle integrate nei percorsi didattici e anche le famiglie devono essere consapevoli di quello che sta succedendo ma voi non avete idea di quanti pochi utilizzano i parental control io sono otto anni a strisciare la notizia grazie a strisciare la notizia che arrivo a milioni di spettatori tre volte a settimana ma quanti ma quanti altri spazi del genere ci sono voglio competitor voglio concorrenti voglio tanti MCC le famiglie gli italiani ne hanno bisogno così come c'è bisogno di eventi ovviamente come questi in cui chi conta chi è in grado di cambiare le cose insomma possa fare qualcosa e faccia qualcosa per affrontare questi temi e soprattutto trovare soluzioni